Tra le 13 bandiere blu assegnate per questo 2021 all'Abruzzo dalla FEE c'è anche un riconoscimento attribuito a Pescara. Il capoluogo adriatico si è presto a inaugurare la stagione balneare alle porte. L'apertura dei lidi è prevista per questo sabato 15 maggio come da crono programma nel decreto Draghi con la benedizione della bandiera blu, un sogno che si avvera per il sindaco Carlo Masci. Siccome amiamo questa città e vediamo le sue bellezze dovunque abbiamo pensato che queste bellezze potessero essere viste anche dagli organismi internazionali che certificano un modo di essere e un percorso verso la sostenibilità ambientale serio. Evidentemente avevamo ragione perché oggi ci viene assegnato questo riconoscimento. È motivo di grande soddisfazione per me, oltretutto è la prima volta nella storia di Pescara che questo avviene. Se pensiamo agli anni passati in cui abbiamo avuto molti problemi legati all'abbalnazione, sembra passato un secolo, invece sono passati soltanto pochissimi anni. Però dietro questo riconoscimento c'è tanto lavoro da parte di tutti coloro che si sono dedicati a questo progetto, ma c'è anche la forza di osare e di inseguire un sogno che poi diventa realtà. Altra realtà è però quella degli assembramenti che invece si sono registrati nel fine settimana appena trascorso nella zona centrale di Pescara che con la riapertura di bar e ristoranti è tornata ad essere il capoluogo della Movida. Una gioia per l'economia degli esercenti, piegati da lunghi mesi di chiusura per la pandemia, ma un pericolo in più per la circolazione del virus, che attenta a quel felice primato di Pescara quale città con un basso numero di contagi da Covid. Soltanto nella serata di sabato le multe a gestori e clienti sono state circa 60, tra mascherine inesistenti, assembramenti e mancato rispetto del coprifuoco. Sabato sembrava che tutto l'Abruzzo si fosse trasferito a Pescara. Questo da una parte ci deve inorgoglire, ci deve far piacere, perché evidentemente tutti i bar, i ristoranti, gli esercizi commerciali hanno lavorato e in questo momento è troppo importante lavorare. Certo è che le preoccupazioni ci sono, perché Pescara oramai da un mese è la città che ha l'indice di contagi più basso d'Italia. Però dobbiamo essere tutti quanti pronti a mantenere il buonsenso. Nessuno vuole rischiare e non ce lo possiamo permettere di tornare al passato e di tornare alle chiusure. Dico anche che il sistema delle vaccinazioni funziona a Pescara e questo sicuramente è motivo di ulteriore tranquillità. Tutto questo mentre si discute anche sul coprifuoco. Mi auguro che venga posticipato, perché andando verso l'estate, arrivare fino alle 23 o alle 24 non credo che sia una situazione negativa.